Si chiama Prenditi cura della cultura, l'iniziativa promossa dall'associazione C'era una volta all'interno della villa comunale di Lecce, per divulgare fra i cittadini la conoscenza dei personaggi che hanno fatto la storia del Salento. Un teatrino per attirare l'attenzione dei più piccoli, ma anche delle provocatorie operazioni di maquillage sui busti sparsi all'interno del giardino, per segnalare il degrado in cui versano. Da Pisanelli a Tancredi, da Francesco Lorea ad Antonio De Ferrari, Sedegno De Giorgi, tutti avvolti in sciarpe e cappelli di nana. Non se la passano benissimo i salentini del passato, esposti alle intemperie e dal conseguente degrado, dal quale non può riscattarli nemmeno il primo sole primaverile della stagione. Noi ci auguriamo che chi di dovere trovi il tempo per intervenire, almeno per restituire a questi personaggi un decoro corrispondente al prestigio che si guadagnarono in vita. Forse i miracoli che di solito accadono in campagna elettorale potrebbero ridare il sorriso addirittura anche a queste statue.